insetti che cos'è questo? moh le luciole appartengono alla famiglia dei lampiridi piccoli coleotteri diffusi in tutto il mondo con circa duemila specie grillo 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 oh lucia che magnifica serratana è vero? lucia 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 oh lucia sto attenta a non sbattere ma io proprio non capisco perchè voi luciole la luce ce l'avete dietro anziché davanti non capisco non capisco non capisco non capisco non capisco regalo è benissimo non capisco